AHHHHH BIVISI-AHHHHH AHHHHH ODIUNO Ci manca soltanto una cosa da fare prima di abbandonare questo posto Ma davo la voce Che cosa dobbiamo fare? OOOH Ciao i sui moongays Come state? Sono primore delle bianche E questo è un nuovo video Un cuore a tutti quelli che dicono che non devo urlare Urlo quanto mi pare Ok mi sono impossessato della camera Allora che cosa andremo a fare oggi? Guardate che posto Già da qui si capisce tutto Che è un posto molto bello Tipo i vari oi No non è vero E andremo a visitare una Un'azienda abbandonata Hashtag simozianca per questo video Hashtag simoboss per questo video Yes Bitch E allora entriamo ragazzi Entriamo in questo posto bellissimo Mamma mia yeah Adesso noi ci mettiamo qua e tu ci metti No e si entra dalla comunque Noi Facci strada Facci strada Non ci stanno i superi No 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 aspetta raga Non era prevista Non è finito il tempo Vabbè raga Simone è un fifone Quindi entrerò prima i o Guardalo guardalo Volare Un po' pulissima Non urlare che se c'è qualcuno dentro ci ammazza Questa che vedete qui alle mie spalle è la fabbrica Non so se ci sta qualcuno Però adesso entreremo perchè noi siamo dei Coraggiosi Andiamo Andiamo arigali Andiamo Andiamo Arigali questo è il pericolo di crollo tipo Purtroppo Hai un po' di paura Vai Simone Oh Che era? Ma che stai scema Oddio raga Mi sono caccato sotto Ci siamo scordati di dirvelo Ma adesso Stiamo per fare una pazzia raga Non so quanti di voi hanno visto la tavola Hanno visto WeChat Ma noi vogliamo prendere un foglio E fare la tavola WeChat qua dentro Io ho seriamente paura Che ci crolli qualcosa addosso E che moriamo Quindi E quindi andiamo a esplorare No devo entrare là dentro Sì Vai facci strada No vai facci strada No no vai Simone Il canale è il tuo Vai 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 Albi Toccate andare No no vai tu No io non ci vado raga Vai No vai prima tu Guardi gli occhiali Ti senti più sicuro Vai prima tu L'ho fottutamente paura No raga No raga No raga Sento tutti gli spiriti Ah Oh Sei ancora Oh una cassetta Cosa ci fa qua una cassetta Raga la vediamo No vabbè raga Ma lui Cioè Raga non giochiamo Porca trota Ah raga 10.000 like E ci portiamo una fan Qua dentro 10.000 like Prendiamo una fan A casa e la portiamo Ma dove hai Albi Sei pazzo Cioè là dentro c'è un morto C'è un morto Dove hai Albi No che schifo Albi Vai Guarda una bamboletta Non c'è giusta la testa Di una bambola raga No vabbè Aspetta fermo la giro No vabbè Simo No No La capoccia della bambolina ha tirato Ah raga questa qua Non ci siamo passati Guardate che cosa c'è C'è Un camper Non so Vedrai che il posto qui è inquietante E qui è tanto Ma che schifo è Che schifo Ah Raga un più volevamo salutare Miss Keta Miss Keta Una donna che conta Questa è meglio della mia macchinetta Questa è la fine della tua macchinetta Forse non hai capito Boss Ma se la vede poi sotto C'è Oh mio dio Il buio totale Ma che è Hashtag Mi sto Cagando Nelle Mutande Per questo video Perché raga E' veramente incredibile E io ve l'ho detto Hashtag Hashtag Sgommata Hashtag Sgommata 10.000 like Portiamo Una fan Qui Di notte Sei pazzo A 3.000 like Vi postiamo una foto Delle mutande di Simone Con la sgommata Promesso Simo c'è un altro buco Là ci andiamo Sì 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 Poi ci piavo Di quelle malattie Oddio Sì era di conto di strello Ti muovi a bel Tu non ci passi Sì Oh che matto Che matto No raga non mi ha abbandonato A me per ultimo qua sotto No vabbè ma lui Porco Simone Ah il più vicino No Simone 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 Oddio non ho tirato Oddio che hanno tirato Simone Guarda chi è assassuta Ma i palloncini Di polito Oddio Guarda quest'altro La fame Guarda No vabbè No raga Che pazzo è greve No raga guarda Ma qua c'ha morta No 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 Hanno fatto di tutto Per renderlo il più impenente possibile Guarda lì Lì c'è un materasso Mi giuro c'è i brivi Fate luce davvero Ma raga Ma che sei ritardato Ma raga ma la porta Non è tutta No vabbè Ma raga qui non so ma è crollato qualcosa Raga Oh Oh raga come il vaso Oh Hashtag Casa Infestata Nell'autostrada Yeah E' vero perché qua sopra c'è pure l'autostrada Raga Simone Simone ti sfido No 5.000 like e devi entrare Devi stare tutto il pomeriggio là dentro No Sì Simone 5.000 like e sta tutto il pomeriggio dentro quella porta Oddio E poi sta proprio a 5 raga Raga è fottutamente in centro della stanza Oh questo è buono Rubiamolo Ma voglio Ma che voglio Ma Simone c'è un po' una puzza di cacca Ma che stai a fa? Io No vabbè La faccia di Ken Assomiglia a Simone Guarda l'occhio azzurri Oddio E' Simone Fatte crescere i capelli Raga Tocca salì No 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 Questa è più Allora questa scala Ci sono pure i scalini grullati Questa Questa No raga io salì Raga guarda qui No questo non regge Doni Piano piano non ci salì sopra là Non ci salì là Simo Non regge Oh L'hai visto? Sì raga Ma che è? Oh raga Raga per me sta facendo una caccia Io sento voci raga No Simo non mi regge Sì si salì No io non voglio salì No no non so più la cagarella davvero So io che c'ho la scommata alla fine del video Ma reggi bene per favore No raga si reggono per miracolo sta roba È ferro arrugginito Cioè raga per salire dobbiamo fare tutto quel tragitto fino a là raga No no Simo non si può far No in mezzo i buchi No sei pazzo No Simone no 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 Che scemo forte No Simo Oh ma che sei pazzo Tu sei malato No Simone No Simo No Simo No Simo No Simo Oh oh che cacchio tremi Io sei scemo Raga l'abbiamo convinto questo la salì ancora per fortuna si è arreso No guardate anche perché sale là sopra e diventa vuoto cioè non c'è più niente Ok ragazzi siamo giunti praticamente alla fine ci manca soltanto una cosa da fare prima di abbandonare questo bellissimo posto Che bello non è La tavola uccia La tavola uccia Raga io ho seriamente paura Raga non rifate la roba a casa Ovviamente non rifatela a casa noi adesso proviamo Però a 10 per like una fan viene con noi Vai Allora raga è arrivato il momento Stiamo per fare la tavola uccia Raga l'abbiamo trovato Abbiamo trovato sto coso per fare la planchetta Perfetto Raga la prima volta nella mia vita che faccio questa cosa non sono abbastanza convinto Vai raga iniziamo Tre dita Tre giri Passo Uno Due Tre Fermo C'è qualcuno? C'è qualcuno? C'è qualcuno? Ma raga si sta muovendo Io Guarda guarda Oh io pure lo sto alzando No raga No spera no fermi 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 No raga No non ci deve andare sul sì raga Non ci deve andare sul sì No raga No raga No non è possibile No Ma siete morti? Io non ci vado Io non la faccio Raga non dovete alzare le dita Cassa roba non si può fare Sì raga non potevo alzare le dita Perché se no si leva E poi è peggio No raga non è stacca Mi chiedo come si chiama Sì Come ti chiami? F F No raga Chi lo sta muovendo raga Fa U No raga Non potevi alzare le dita D No raga Raga mi sto sentendo male Mi chiamava fai Raga guarda io non soppre me niente raga Io manco R Io ci credo perché l'avevo fatto a casa Per cavoli miei però Fabrizio Gli credo quanti anni c'ha? Quanti anni hai Fabrizio? No vabbè raga Quattro Che dove sta andando? No raga Raga vi giuro non sto premendo raga E io manco Simone Tre 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 La raga ci stavano Lei dove stava la parte? La bambola raga Lì c'era la bambola Non ce la faccio Possiamo andare via? No raga No 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 raga non devo andare No no Simone non puoi togliere Simone mi metti il dito Metti il dito Vieni qua Simone Metti sto dito qua immediatamente Guarda se succede Oh Simone se succede qualcosa è peggio Non possiamo andare via se stai così Vieni qua Oh che Simone metti sto dito Lo vedi che sto a tre ore che siamo così Sbrigati Sbrigati Gli animali radioattivi Non si può fare Sbrigati Simone Ti metti a sede Metti tu a sede Dai veloce Vai Possiamo andare via? Non sai come una fanda No No raga è greve Io non ci ho metto a dito raga Non possiamo andare via quindi Che cosa dobbiamo fare Corri Simone Corri No raga 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 Corri Simone Corri Corri No raga 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 GORRI 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 Simone benvenuta su scherzi a parte Non sto a scherzare Lo sentite? Simone L'avete fatto voi il cosmo E direi Non stiamo uccidendo con tutti questi prank Oh 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 Simone Dai ritirati Simone sta a posto Oh Albi portavano in macchina questo si sente male Oh Tutto a posto Simone? Non abbiamo esagerato Madonna regà Questo non fa più video con noi Oh Dai era finto c***o Dai Dai Simone Oh Dai Vai Vai una caramellina mo? Ok regà Simone Simone sta a sentire male E quindi chiudiamo noi qua il video Ci dispiace No più che altro non ci aspettavamo una reazione così No decisamente no Abbiamo sgravato regà Coraggio Vabbè Ci vediamo al prossimo video Scusateci Magari io faremo un po' più tranquillo Ah si Dai regà A presto Un bacione Hashtag Simone riprenditi Hashtag Simone riprenditi Simone riprenditi Un bacione regà Ma dategli un messaggino Un bacione